Buongiorno a tutti e ben ritrovati! Oggi siamo nel prestigioso quartiere di Poggio Franco a Bari, precisamente in via Martin Luther King, e vi presentiamo un appartamento di 106 metri quadri pronto ad accogliere le vostre visioni di casa ideale. Questa è un'opportunità unica per chi cerca uno spazio da ristrutturare e personalizzare, creando la casa dei propri sogni. Entrando troviamo un accogliente disimpegno, spazioso. A sinistra troviamo un soggiorno luminoso con balcone esterno, con vista su Poggio Franco. Una camera da letto ed una stanzetta, entrambe con finestre, una con affaccio esterno, l'altra con affaccio interno. Una cucina abitabile con veranda e lavanderia. Un bagno padronale e due pratici ripostigli per un'organizzazione ottimale. Completa la proprietà una cantina inclusa per lo stoccaggio aggiuntivo. L'immobile è dotato di impianto termoautonomo per il massimo comfort. Ascensore per un facile accesso a tutti i piani. Questo appartamento offre una base solida per creare uno spazio che rispecchi il vostro stile e le vostre esigenze. La posizione centrale vi permette di godere di tutte le comodità del quartiere, tra negozi, servizi e aree verdi. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di trasformare un semplice appartamento in una casa a su misura per voi. Contattaci subito! Ciao, alla prossima!